Il corso Project Management. Metodologie, strumenti e dinamiche per condurre un progetto al successo fornisce competenze strategiche essenziali per gestire e controllare efficacemente i progetti aziendali, migliorando le prestazioni operative e commerciali. Attraverso l'applicazione pratica di tecniche e strumenti di Project Management, i partecipanti impareranno a pianificare, monitorare e portare a termine progetti complessi in modo efficiente. Al termine del corso, sarà possibile ottenere la certificazione ISIPM riconosciuta dal MEF, acquisendo un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro e valorizzando le competenze acquisite. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date, programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.